Buongiorno a tutti, io sono Arianna Cattaneo e oggi vi farò vedere come creare un cosplay completo di Harley Quinn. Harley Quinn, o anche detta dottoressa Harley Quinzen, è la finanzata ufficiale del celebre nemico di Batman, ovvero il Joker. Questo cosplay è perfetto se siete dei cosplayer alle prime armi e volete buttarli in questa nuova esperienza. La nostra modella è talmente gentile che ci ha già fatto la base, nel caso in cui voi vogliate farlo con una base molto più chiara, tipico di Harley Quinn, lo potrete fare tranquillamente con un colore grasso. Né in questo caso ne facciamo una versione un pochino più grunge e quindi abbiamo una base normale alla quale noi faremo un contouring pesante. In questo caso incominciamo con un leggero marrone e andiamo a evidenziare meglio gli zigomi. Quindi facciamo una cosa abbastanza pesante, ben sfumata. Poi io l'ho voluto fare ancora più carico, per cui sono andata direttamente di nero. E sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo. Ok, una volta fatto questo, se vi sembra che i bordi siano troppo incisivi, sfumiamo sempre col colore più chiaro e la prima parte di fondo diciamo che è fatta. Si può anche scolpire meglio il viso nella parte della mandibola per avere un effetto ancora più marcato, ma dipende sempre dal vostro viso, dalla modella e dall'effetto che si vuole finale. Adesso vediamo la seconda parte che riguarda l'occhio. Harley Quinn si può personalizzare, anzi per essere più precisi, in mille modi. Io ho deciso appunto di dare questo effetto urbano diciamo, grunge, e quindi ho deciso di fare un occhio sporcato, abbastanza allungato, ma si può anche fare l'effetto circense facendo la doppia linea sopra e sotto l'occhio, a vostra scelta. Per fare questo occhio qua incominciamo con la matita e si borda l'occhio. Si sporca appunto la base delle ciglia per non avere poi dopo lo stacco con la sfumatura che si farà in seguito. Una volta fatta questa prima parte si può partire con l'ombretto, per cui un normalissimo ombretto nero, si toglie l'eccesso e si inizia a colorare la parpebra mobile. Tamponando il colore per evitare che vada troppo sulle guance. Nel caso in cui vi troviate più comodi ovviamente questa parte si può fare per prima e dopo il fondo per togliere qualsiasi traccia di colore che può essere caduto nell'applicazione. porto il colore in fuori e sfumo, 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 sfumo. Per rendere il colore più intenso posso anche unire un marrone un pochino più scuro. Adesso con un bel pennello da sfumatura iniziamo a sfumare. Una volta soddisfatti della nostra sfumatura in alto possiamo anche pensare di dare un bel punto di luce sotto l'arcata sopraccigliare. Mi raccomando l'angolo interno dell'occhio da non lasciarlo scoperto. Riprendo un pennellino un attimino più vicino o comunque con la punta a lingua di gatto per andare più in precisione e faccio una breve sfumatura sotto l'occhio per renderlo equilibrato. Mi aiuto con un pennello più grande a farla meglio e più brillata. Chiudi. Dove manca colore si aggiunge. Togliamo quello che ci è caduto con un bel pennellone grande, guarda in alto. Ultima aggiunta, una breve punta di eyeliner. Chiudi. appunto se abbiamo ancora della pelle visibile vicino all'attaccatura dell'occhio. Per rendere il contorno occhi più intenso. Sistemiamo un pochino le sfumature perché io voglio una bella punta allungata che vada insieme alla coda dell'occhio che ho fatto. Io inizierò a fare un contorno labbra con una matita e andrò a fare una bella sfumatura nel centro con un bel rosso intenso. Per cui cominciamo facendo il contorno delle labbra e portandolo verso l'esterno. Ora do una punta di rossetto rosso nel centro. Faccio un bel rosso cupo e vedo fino a dove mi piacerebbe avere la sfumatura. Con un pennello abbastanza a setole rigide cominciamo a fare la sfumatura. E si tratta sostanzialmente di far combaciare il nero con il rosso. Sfumando o creando comunque l'effetto che volete. Per quanto riguarda la parte esterna mi prendo il pennello abbastanza lingua di gatto, bello sottile che ho usato prima. E mi vado a riprendere la mia linea, a sfumarla dove serve, apri un po', grazie, e a mettere più colore se necessario. E questo è il cosplay finito. Ovviamente il cosplay ha delle parti fatte a mano come per esempio gli anfibi, i pantaloncini, la maglietta decorata con dei semplici acrilici. Io ho aggiunto il tutto con un cappellino fatto a mano da me, un collare, ma potete scegliere se avere un un foulard o qualche cosa. Come ho detto è il cosplay più personalizzabile e più facile da realizzare. Il trucco come vi ho fatto vedere è abbastanza semplice. l'Hurley Queen, ricordatevi sempre che comunque ha questi bellissimi colori, rosso e nero, mi raccomando alternateli, quindi se avete il rosso qua e il nero va tutto da invertire e da giocardela. E come saluto finale vi salutiamo con la frase del Joker, perché sei così serio?